povero gabbiano pronta pronti ciao a tutti i ragazzi e bentornati come state è bello vero e oggi parliamo di lui è un monitor ovviamente l'avete visto mi sembrava semplice non è certo una cravatta un paio di scarpe e ve ne parlerò perché effettivamente ho fatto un cambio chi mi segue da qualche mese sa benissimo che per sei mesi ho utilizzato un televisore oled di lg per quanto riguarda il monitor quindi l'ho utilizzato un televisore come monitor cosa che per molti è assurdo mi sono trovato bene anche perché parliamo di un oled 4k quindi ottima risoluzione qualità e quant'altro con 120 hertz che non è male nemmeno per il gioco perché vabbè io non sono un pro player quindi mi interessa relativamente ehi 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 non iniziare il video senza neanche presentarmi ma allora ciao a tutti sono anche io presente in questo video solo che ghela non mi voleva altamente pensare ok questo video finisce qui se vi fosse piaciuto lasciate un bel pollice no sto scherzando ovviamente grazie di essere qui anche oggi come tutte le giornate della mia vita ma detto questo spazio allo sponsor se sei alla ricerca di una licenza per windows 10 pro che potrà poi essere convertita totalmente in maniera gratuita a windows 11 oppure stai cercando una licenza per office così per i vostri lavori e spendere veramente poco o chi fa sicuramente al caso vostro qualora doveste poi utilizzare il mio codice sconto gh 20 durante la fase di acquisto risparmierete ben il 20 per cento su tutti gli acquisti il sito è molto molto semplice da utilizzare una volta che vi sarete iscritti e una volta che avrete fatto l'acquisto troverete le chiavi all'interno della vostra dashboard andate a copiare il codice di riferimento ad esempio quello di windows 10 e poi procedete andando nel pannello di controllo seguendo la procedura di attivazione di windows incollate il codice che vi viene assegnato e il gioco è fatto lo può fare veramente chiunque vi ricordo nuovamente il codice sconto gh 20 per il 20 per cento di sconto tutti i link ritrovate qui sotto in descrizione stavamo dicendo comunque che si ho sostituito quindi il mio televisore il perché beh in realtà non c'è solo perché ce ne sono diversi che oggi comunque discuteremo insieme però prima di tutto direi che forse è meglio presentarvi questo monitor e per questo utilizzeremo la nostra voce fuoricampo a e devo entrare davvero adesso non ero pronta volevo dire altre cose ma va bene sì questo si chiama appunto ben più mobius precisamente e ovviamente ringraziamo sia arcadia sia appunto ben che per avercelo mandato che io ho richiesto questo monitor e che la realtà se l'è rubato diciamo anzitutto le cose come stanno è diciamo tutto come sta lei ha un bellissimo monitor e dopo dirà anche la sua riguardo ovvero un asus in questo caso quoda hd 144 hertz non vorrei sbagliarmi curvo e 32 pollici giusto però via esattamente si è un via quindi c'è un po un piccolo paragone che si può fare al riguardo però non è questa è la cosa importante la cosa importante che appunto in questo monitor l'avevo richiesto io e ghela se l'è rubato questa è la cosa più più importante no comunque a parte gli scherzi lui utilizzava una televisione letteralmente per giocare e a parte bruciarsi gli occhi h24 perché veramente troppo questo non è assolutamente vero diciamo che un oled è fantastico da questo punto di vista ha dei difetti che dopo vediamo anche a paragone ma la cosa importante da dire e quindi come abbiamo detto che questo è un 4k giusto abbiamo un pannello ips e altri dettagli si è appunto come abbiamo detto un 32 pollici a un millisecondo di tempo di risposta e all hdmi 2.1 questo significa che praticamente non è soltanto un monitor che voi potete utilizzare ambito pc ma è perfetto anche per le console di fascia alta quindi xbox series x ma anche playstation 5 e in più c'è anche un microfono integrato e tu dici ma che cosa cacchio mi serve un microfono a mente lo spiega ghela perché io non c'ho voglia ma in realtà non lo sappiamo nemmeno noi in teoria io penso che qualora voi dovesse avere una webcam un po scadente lato audio anche semplicemente perché lontano da voi il microfono è un pochino più vicino quindi raccoglie meglio l'audio però sinceramente non è che sia di questa grandissima qualità mi aspettavo certo molto di più la cosa che volevo dire però mi sono totalmente dimenticato ve la dico dopo se mi viene in mente questa è una cosa bellissima da dire in video perché come vedete le nostre recensioni sono tutte preparate ci siamo veramente tanto professionali no comunque a parte gli scherzi sicuramente la prima cosa da notare soprattutto per 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 ghela ovviamente è che è le dimensioni sono totalmente diverse cioè passare da una televisione che lui ripeto utilizzava per giocare competitivo non so come sia possibile passare adesso ad un 32 pollici quindi un monitor di dimensioni normali sicuramente fa la differenza competitivo un parolone gigantesco giocavo un gioco che in teoria di base può essere competitivo però si era un 48 pollici con quindi uno schermo oled vediamo il primo problema di un monitor di quel tipo quindi un televisore rispetto a un monitor ips come questo ben più innanzitutto il riflesso gli oled ahimè sono bellissimi sicuramente per quanto riguarda il contrasto hanno dei neri che sono totalmente neri ma creano per questo motivo anche un gran riflesso diciamo che vi potete letteralmente specchiare noi abbiamo la fortuna in questo studio di avere comunque la gestione delle luci abbastanza buona quindi non è che interferisse più di tanto però alla lunga comunque soprattutto quando la stanza è buia magari sono soltanto le luci dello studio accese qualche cosa va a interferire poi con la visione del gioco ma anche durante il lavoro l'altra cosa che non mi è piaciuto sempre parlando del pannello è il fatto che il televisore non è così preciso per quanto riguarda soprattutto i pixel quindi la qualità del testo in questo caso non c'è bisogno di aggiungere nessun filtro per migliorarlo la qualità delle icone dei testi anche quando scrivete non soltanto quando state lavorando comunque navigate sul web è veramente incredibile è la cosa che dicevo prima non si nota nemmeno un pixel e a vedere queste immagini a volte sembra di vedere letteralmente un quadro neanche un qualcosa come un monitor perché non c'è nemmeno riflesso esattamente anzi in realtà questo è uno dei migliori monitor a riguardo che abbiamo provato anche perché ha una serie di tecnologie a partire dalla hd r ai attenzione questo molto importante poi c'è anche light tuner e black equalizer che appunto permettono di ottimizzare al meglio quella che la qualità dell'immagine per giocare ovviamente in modo eccezionale e quindi appunto l'hd r hd r ai ecco si hai allora se tu dici hdr devi dire i perché sennò sarebbe hdr ma scusami io dico anche hdmi o hdmi ecco questo va estirpato dalla vita di qualsiasi persona o tutto italiano o tutto inglese no però c'è da dire una cosa ammetto sono totalmente ignorante nel mondo hdr totalmente quindi non ho neanche idea di cosa sia l'hd r e questa cosa ve lo dico sinceramente perché innanzitutto non lo utilizzo utilizzandolo come monitor da gioco e per gioco intendo giochi anche competitivi come dicevamo prima quindi valorante quant'altro l'hd r non serve in questo momento l'hd r è attivo e lo notate così anche in video proprio per la profondità dei colori è molto più saturo è molto più carico in tutto e per tutto quindi per la visione diciamo di contenuti come film come serie tv ma anche di giochi tripla dove magari avete tanta grafica quindi giochi d'avventura sicuramente l'hd r pone il tutto a un livello decisamente superiore è godibile assolutamente godibile sebbene farsi un po i colori reali comunque vi dà qualcosa che all'occhio insomma è piacente si diciamo che pulciando anche pulciando spulciando comunque in quel di internet si può capire un po che questa tecnologia semplicemente in modo molto frivolo aumenta quella che è la nitidezza i dettagli e la visione dei colori quindi come possiamo dire in modo semplice è un hdr potenziato è quello che ho detto in maniera povera nel senso quella che è stata la mia impressione effettivamente poi è quello che questo hdr i va a generare quindi assolutamente eccezionale come vi abbiamo detto quindi nessun tipo di riflesso colori perfetti precisione anche nel dettaglio quindi devo dire che da questo punto di vista sono stracontento si diciamo che è veramente spettacolare diciamo in linea generale l'hd r aumenta la luminosità ma anche i dettagli però spesse volte se hai notato può creare un po di sovraesposizione quindi prendendo un po sai tipo l'atmosfera ecco come posso dire insomma parole povere quindi invece l'hdri di ben più fa un po un bilanciamento di questa cosa quindi contrasti dettagli quindi chi gioca può mantenere gli effetti visivi del gioco e ottenere comunque degli ottimi dettagli però allo stesso tempo mantiene nelle aree scure dello schermo un'immersione più profonda ok si effettivamente poi quello che da ignorante in questo mondo hdr ho provato proprio nell'utilizzarlo quindi proprio la mia stata esperienza pura e devo dire che se questa è stata la mia esperienza ho avuto le stesse sensazioni di quello che è la pubblicità e del marketing vuol dire che questa volta il marketing ha funzionato cioè sta dicendo la verità cosa rarissima non succede mai questa cosa ma questo c'è da dire perché ben più fa sempre dei prodotti ottimi infatti una cosa che potrebbe sembrare strano è come è possibile che sia un ips ma anche hdr perché l'hdr no già la tendenza un po a saturare i colori invece essendo appunto una tecnologia hdri quindi ce l'hai di intelligenza semplicemente anche qui offre colori più naturali perché il color engine di benq permette appunto di migliorare la saturazione e la tonalità di ogni colore quindi li regola in modo tridimensionale quindi il verde diventa vivido e con una maggiore saturazione ok abbiamo letto tutto il sito internet però a parte questo la cosa stra comoda è che hanno aggiunto un bottone proprio qui sul monitor per attivare la hdr quindi qualora volesse toglierlo basta selezionare andare col controller che trovate qui sotto disattivarlo oppure impostare uno dei tre set attivi che vi danno più o meno intensità sui colori quindi potete cambiarlo veramente comodamente tra l'altro esiste anche un telecomando che non ho qui a portata di mano che fa la stessa cosa quindi senza dover accedere al monitor potete dal telecomando gestire l'hdr gestire il menu quindi vi aggiunge questa funzionalità un po da televisione che comunque è comoda non guasta mai avere comunque un controller più comodo a portata di mano si al controller proprio perché il controller il telecomando perché appunto lo potete utilizzare sia per pc gaming sia anche per console quindi diciamo che la domanda giustamente potrebbe essere ma perché devo spendere tanti soldi per questo monitor perché ovviamente se voi volete giocare in modo 4k quindi ai tripla al massimo dei dettagli avete ovviamente sia una console che si presta sia un pc da gaming ultra mega super mega potente sicuramente questo è il monitor perfetto per voi assolutamente è veramente un top di gamma c'è poco da fare allora ben chi ci ha sempre dato ottimi prodotti per il mondo più che altro del lavoro quindi questo sembra quasi un monitor prestato al gaming quindi un monitor di ottima qualità che va benissimo quindi anche per foto editing video editing comunque lavori grafici e non solo portati poi in un settore che è quello del gaming aggiungendo quindi un delay ridottissimo aggiungendo il free sync perché questa è una cosa importante questo monitor è free sync quindi potete utilizzarlo con md invidia senza problemi ed effettivamente in gioco non ho mai avuto nessun tipo di tearing non ho avuto nessun problema anche con fps decisamente superiore alla sua frequenza che sono i 144 hertz che dicevamo prima quindi il free sync rimane comunque una tecnologia veramente ottima che purtroppo in questo caso sebbene non incida tanto sul prezzo non va neanche aiutarlo perché questo diciamolo fin da subito ragazzi è un monitor veramente costoso però la sua qualità ve lo dico molto sinceramente estrema stiamo parlando di 1200 1300 euro ahimè però c'è da dire prima aveva un televisore oled che ne costava 1200 quindi se devo proprio fare un confronto diretto questo vince a mani bassa si è esattamente come detto tutto poco fa è proprio come se fosse un monitor da lavoro prestato per il gaming proprio perché anche la tecnologia i care questo solitamente si vede più nei monitor diciamo da ufficio quindi che hanno la tendenza a non affaticare la vista la cosa in più presente sono delle casse sono delle buone casse stranamente incredibilmente buone ora non credo riuscire a farle sentire perché magari c'è l'audio copyright e quant'altro sempre un casino però ci sono anche i diversi preset per gestire al meglio l'audiogioco oppure state guardando un film e c'è anche una versione con dei bassi belli potenti e credetemi si sente veramente molto molto bene è difficile che io utilizzi il monitor senza cuffie però magari quando anche noi stessi stiamo guardando qualcosa insieme veramente è godibilissimo per quanto riguarda l'estetica questo nello specifico nel pannello posteriore è bianco e arriva anche con un sostegno decisamente da gaming nello stile io l'ho collegato invece a un braccio che magari tra vedete qui o comunque l'avete visto in altri video che avevo già qui fin troppo costoso diciamolo perché ho speso tipo 300 euro troppo un po troppo però falso lavoro e come vedete posso anche portarvelo avanti e farvelo vedere comodamente per quanto riguarda stavo dicendo l'estetica lo vedete è molto minimalista un po proprio indirizzato quasi al monitor da ufficio più che da gaming no quindi non ci sono fronzoli quindi diciamo che quello che stavamo dicendo prima che quindi questo fosse effettivamente un monitor prestato al gaming penso che si addica insomma come caratteristiche come dettaglio e diciamo giusto cosa c'è nella parte posteriore perché potrebbe essere utile dato che appunto una dotazione veramente interessante e qui mi sovviene cosa volevo dire prima quando me l'ho dimenticato perché tu avevi parlato di hdmi 2.1 mentre io volevo dirvi che ovviamente è consigliabile per pc la displayport esatto infatti abbiamo una displayport 1.4 e una soltanto abbiamo poi ovviamente l'ingresso diciamo l'attacco quello da stampante ecco che non mi ricordo mai il nome preciso e poi abbiamo addirittura quattro porte usb all'attacco da stampante è per configurare e aggiornare firmware è esattamente sì proprio quello bravo vedi allora si dice che si è attento una roba interessante e poi ripeto abbiamo quattro porte usb quindi per chi vuole attaccare strisce led e quant'altro cosa ovviamente utile o fare altro può farlo con quale italiano brutto lo sto dicendo mi sembra una frase che a un inizio e una fine un po contorta però comunque sì abbiamo capito sì c'è anche da questo punto di vista quindi un occhio un po alla produttività non soltanto al gaming perché di per sé veramente quelle porte usb possono servire a tante cose torniamo un po noi e al concetto principale ovvero questo maito quindi caratteristiche le riassumiamo velocemente qualora ve le foste perse un po nei vari commenti ci penso io ovviamente quindi allora monitor ips sicuramente a livello di colori migliore anche più realistico se dovete anche lavorare rispetto per esempio al mio che è un via poi abbiamo appunto quattro cosa quattro cosa k a e mi fai il numero 4 non ci arrivo così scusate volevo dire esatto 4k beh sicuramente a livello di dettaglio è molto molto meglio rispetto anche al mio gruppo hd vabbè ragazzi inutile fare il paragone normale che sia migliore del mio ed è per questo che se l'è rubato esattamente ovviamente perché volevo avere un monitor decente e che ha spiazzato ovviamente ma questo forse era abbastanza facile il televisore che avevo prima per tanti vantaggi non è solo il colore ve l'ho detto prima i riflessi la comodità anche per spostare un 32 pollici e non un 48 che comunque non riuscivo a sostenere col braccio che ho installato adesso insomma tante tante cose le frequenze a me contano relativamente però avere un monitor 4k 144 hertz in questo momento vi permetterà di poter giocare per diversi anni secondo me perché comunque dovete avere anche un pc impressionante per riuscire a girare a 144 fps o più per poter sfruttare al meglio il free sync e di conseguenza anche i 144 hertz di questo monitor quindi io direi di concludere tranquillamente 1300 euro fanno male poco ma sicuro però penso che valga ogni centesimo speso è veramente un prodotto non è proprio da gamer diciamolo è un prodotto professionale utilizzabilissimo dai giocatori perché comunque alle caratteristiche per un gamer però ricordatevi questo è un prodotto professionale prestato tutto qua quindi 1300 euro secondo me almeno li vale tutti anche se fa male questo era appunto il ben più mobius e x32 10 u 4k super mega figo ovviamente ringraziamo ben che soprattutto arcadia media agency per avercelo mandato per questa recensione e per avercelo regalato mi ha maledetto e niente se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video a presto ciao io mi vado a godere questo monitor e lascio a lei quello più scarso be a mezza be a mezza